Buonissimi amici e amiche, bentornati o benvenuti a questa nuova puntata del ciclo di Catechesi dal non senso alla vita di cielo. Questa è la quarta puntata e siamo entrati nella puntata precedente in un tema molto importante e molto delicato che questa sera sicuramente riprenderemo e in un certo senso completeremo sotto un punto di vista, un aspetto del tutto particolare ma assolutamente importante. Vi ricordo insomma che la volta scorsa abbiamo cercato di tracciare un itinerario di aiuto ad individuare quali ferite ci portiamo dietro. Ora l'assunto di questa prima parte di queste conversazioni, oggi faremo un altro step, è questo. Il male viene prodotto da quello che la Chiesa poi prende, riprenderemo questo discorso, chiama peccato, nient'altro che questo qui. Il male è un fatto oggettivo e è un fatto che incide, ci rimane, ci tocca, ci ferisce. La nostra esistenza deve tenere conto di questo fatto, cioè nel senso che noi siamo un cumulo spesso e volentieri di ferite che si sono inserite dentro la, chiamiamola così, sostanza della nostra persona e della nostra personalità. Queste ferite o ci sono venute dall'esterno, cioè vengono dai peccati degli altri, o anche di questo parleremo, ce li siamo dati da soli, quindi è come se uno avesse preso un coltello e si fosse preso a coltellate, o si fosse tagliato le vene. E questo lo facciamo con il male, lo facciamo noi. Ora attenzione che un punto fondamentale, che io ho approfondito in un ciclo di carichesi parallelo a questo, che è quello del lunedì, con la sana dottrina cattolica, quando abbiamo parlato del sacramento della venitenza, un concetto fondamentale da tenere chiaro, proprio imprescindibile, e anche su questo dobbiamo confrontarci, è questo, che il male è una cosa oggettiva, cioè se una cosa è cattiva, da un punto di vista morale, in base a quello che il Signore ci ha rivelato, quella cosa sicuramente produrrà male, lascerà delle conseguenze negative e ordinariamente durature nella vittima, sia una vittima, diciamo così, perché è uccisa, perdonatemi una metafora, dall'esterno, sia una vittima perché si è suicidata. Questo è il peccato personale nostro, è un suicidio, un suicidio folle, ma lo è. Quindi la prima cosa che stiamo esaminando è il male che ci è caduto addosso e che dobbiamo assolutamente individuarlo, perché poi vedremo che il percorso di guarigione si attua a diversi livelli, c'è un aspetto del percorso che serve a guarire le ferite che altri ci hanno inferti, e vedremo qual è. C'è un percorso che serve a guarirci dalle ferite che ci siamo fatti da soli, cioè dai peccati commessi, dai suicidi, c'è un percorso di liberazione dalle nostre cattive abitudini, dai nostri vizi, c'è un percorso di educazione del nostro temperamento, vedremo, riprenderemo chi ha sentito i vecchi cicli di catechesi, sa queste distinzioni, no? La distinzione che c'è tra il temperamento e il carattere. Quindi è importante avere un quadro fondamentale. Ora, lo step che desideravo fare oggi con voi, molto importante, è quello riguardante, diciamo così, l'idea che ci è stata trasmessa, quindi siamo sempre da un punto di vista di esperienze vissute che hanno inciso su di noi. L'idea che ci è stata trasmessa di Dio, che è fondamentale, e noi non possiamo fare finta che non c'è stato. Se ricordate, nel foglio, diciamo così, di lavoro, in terzo punto, c'è una domanda fondamentale. Dio si è rivelato, d'accordo, e la Santa Madre Chiesa, come diciamo nell'atto di fede, ce lo propone a credere la corretta visione e rivelazione di Dio. Ma io sono sicuro che quello che io penso di Dio corrisponda a ciò che Dio è, certo. Come dice San Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, d'accordo? Quindi non possiamo avere in questa vita una conoscenza perfettissima dell'Altissimo. Ma una conoscenza vera, sì? Cioè, dei parametri dentro cui muoverci, sì. Sono sicuro io che i miei parametri di sintonizzazione, anche se sono credente, siano quelli corretti? Punto interrogativo. Qui dobbiamo andare e essere anche sinceri con noi stessi e farci alcune domande. Primo, quanto riguarda il rapporto con Dio. Nella famiglia dove io sono vissuto, Dio c'era o non c'era? Prima domanda. Questo aspetto è un aspetto non importante, ma ancora di più. Bisogna vedere se Dio c'era o non c'era. Se non c'era, la domanda è già bella che è finita, insomma, no? Se c'era bisogna vedere quale Dio c'era dentro la mia famiglia. Dice, no, ma siamo tutti canti cattolici battezzati. Sì, ma bisogna vedere se l'idea e l'immagine che abbiamo di Dio è del Dio di Gesù Cristo, del Dio che ci ha rivelato il nostro Signore, o un'idea alterata, falsata. Non sono cose da dare per scontate. Spero di riuscire durante questa conversazione a trasmettere alcuni punti molto, molto importanti e delicati. Allora, c'era Dio nella mia famiglia o non c'era? Perché se non c'era, c'è questo, diciamo così, vuoto primordiale che è un gap che mi porto dietro. Non a caso, figli di Dio, questi ci pensi anche chi da poco che si è imbarcato in questa strada, no? Nel sacramento del matrimonio, proprio nel sacramento, è compresa la volontà di collaborare con Dio a procreare la vita, ma anche a educare cristianamente i figli. Questo è un dovere grave, questo qui. Io dico sempre a risposi, ogni tanto dovete tornare sulle promesse matrimoniali, perché quando noi ci imbarchiamo in uno stato di vita, poi il nostro Signore, a giudizio particolare, oltre che i dieci comandamenti, ci presenta anche i doveri del nostro Stato, è che noi ci siamo impegnati ad adempierli. Almeno dobbiamo averci provato, poi che abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, questo lo giudicherà il nostro Signore, però ci dobbiamo almeno provare. Non possiamo del tutto trascurarli, del tutto ometterli. Gli sposi si sono impegnati e quando hanno portato i figli a battezzare, l'impegno l'hanno di nuovo ratificato, perché il battesimo ai bambini si dà sulla fede della Chiesa, certamente, per il fatto che è un sacramento necessario per la salvezza, quindi prima si diceva e meglio è, si dà sulla fede della Chiesa, che è, diciamo così, oggi un po' meno, ma un tempo in maniera più stringente, simboleggiata dalla figura del padrone della Madena, quindi la fede della Chiesa, ma anche l'impegno dei genitori di trasmettere la fede a nome sempre della Chiesa, perché la famiglia è una piccola Chiesa domestica, in modo tale che quel germe di vita, dicono i propri formulari, che la creatura riceve, che cresca, perché altrimenti facciamo come il chicco di grano che cade in terra e se non lo irriga e non lo coltiva, non germoglierà, quindi è un seme meraviglioso che darebbe un albero bellissimo, ma se non lo coltivi e non lo fai germogliare, quello rimarrà così com'era, probabilmente sarà soffocato, sarà sterile, ecco la motivazione per cui il contesto in cui viviamo oggi è un contesto, per esempio, molto, molto, molto diverso da quello di tanto tempo fa, queste sono le famose sfide pastorali della Chiesa, no? Personalmente sono, è evidente che in battesimo un bambino è una cosa importantissima, tante volte ho detto e io continuo a pensare questa cosa, che prima si dà e meglio è. Certo che veramente oggi ci sono delle situazioni in cui veramente, salvo l'efficacia ex opera operato del sacramento, perché comunque il battesimo il peccato originale te lo toglie, la grazia dell'infonde, però veramente ci sono delle situazioni in cui la garanzia che offrono i genitori poverini di un'educazione alla fede e rasenta lo zero. So per certo, insomma, che nella Chiesa si discute di queste cose, ci sono alcune posizioni un pochino estreme, che ha detto, alcuna addirittura parla di riferire il sacramento o di non darlo, no? A me sembrano comunque soluzioni un po' troppo borderline, però pur essendo estreme, certamente toccano un punto fondamentale. Allora, c'era o non c'era di una tua famiglia? Che tipo di educazione alla fede hai ricevuto? Se l'hai ricevuta. Che tipo di immagine di Dio hai ricevuto? Se l'hai ricevuto. In famiglia, dopo facciamo un pochino di esempi concreti, quindi scendiamo un pochettino nelle false immagini di Dio, quindi, però, gli ambiti su cui dobbiamo lavorare sono questi. C'era o non c'era? E se c'era? Che tipo di immagine ho ricevuto di Dio, della fede, della chiesa, della religione? Per esempio, qual era il rapporto della mia famiglia con la chiesa istituzione, con il Papa, con i vescovi, con i sacerdoti? C'era questo senso alto di riverenza e di stima? oppure si parlava facilmente male di Dizio, di Caio, di Sempronio, quindi, un po' come fa, si fa oggi sui social network che si creda autorizzati di sparare a zero contro tutto e contro tutti, no? Quindi, perché questo ci dà proprio l'imprinting fondamentale, molto diverso, se una persona, anche dovendo, come dire, ricostruire un pochino la propria esistenza del Signore a questo imprinting di base positivo o non c'è stato o peggio ancora era completamente falsato. C'è un altro aspetto, diciamo così, che influenza la nostra fede per quello che riguarda il vissuto familiare. Che tipo di padre ho avuto? Com'era il rapporto con mio padre? Perché noi sappiamo, no? Io mi parlo per l'esperienza di sacerdote, io credo in Dio padre onnipotente, noi siamo figli di Dio, Dio è il nostro padre, no? Ma se una persona ha vissuto e ha interiorizzato un rapporto pessimo con il padre, la sua idea di padre è quella relativa al padre terreno e ciò che accade ovviamente, automaticamente, è la traslazione di quel tipo di rapporto nei confronti della paternità divina. Quindi, l'idea di Dio padre, cioè, io non la voglio manco sentire di perché, perché io ho quell'immagine di padre. Sto dicendo queste cose perché alcuni filosofi atei e polemici hanno detto delle cose molto brutte, relativamente al fenomeno della religione. Cose brutte che però c'è una modalità corretta di prenderle e di considerarle. Perché conosci un pochino di filosofia, sto parlando di Ludwig Feuerbach, io lo ricordo bellissimo. Sapete cosa diceva Ludwig Feuerbach? Diceva che nel processo religioso, cioè, nella religione, l'uomo proietta, hai visto il proiettore, Nella divinità tutta quanto una serie di immagini che si porta dietro dalla vita. Quindi, la divinità non ha la sua consistenza oggettiva, ma è semplicemente una proiezione dell'uomo, che poi bisogna vedere se è falsato o se non è falsata. Si può anche fare una proiezione ideale, quindi, siccome l'uomo si scopre imperfetto, tu ti rappresenti un qualcuno che non ha nessuna imperfezione, quindi quello lo chiami Dio. Questo autore, molto semplificando, diceva questa cosa, che è falsa, evidentemente. Dio ha un'esistenza oggettiva. Però, cosa c'è da prendere in considerazione? Perché anche, questo capita spesso, anche nelle critiche distruttive, se uno matura e si mette comunque in ascolto, c'è sempre qualche cosa che può edificarti, o che può esserti utile. noi sappiamo che Dio ha una consistenza oggettiva, un'esistenza oggettiva, non è una mia creazione, non è una mia proiezione. Quello che però può succedere è che nella consistenza oggettiva di Dio, io proietto le immagini che mi sono fatte di Lui, questo succede come? Questo succede come? Ed è l'argomento di cui stiamo parlando questa sera. E se quelle immagini sono falsate, io con Dio in contatto reale non ci entro, entro in contatto con una sorta di idolo, cioè con una immagine completamente sfalzata di Dio. Quindi tutta la tematica molto molto delicata dell'idolatria che abbiamo affrontato in un altro ciclo di catechesi ha questo aspetto sottilissimo, cioè io posso farmi un'immagine falsa di Dio, in modo tale che quell'immagine falsa diventa una sorta di simulacro, di sostituto del vero Dio. Attenzione che questa è una cosa sottilissima, delicatissima, ma frequentissima. Ok? Altro aspetto, le persone che hanno difficoltà ad avere devozione alla Madonna, cioè che non, oppure che quando gli parli della chiesa in madre si sentono rivoltare un pochino all'interiore, generalmente questo accade quando il rapporto con la madre era pessimo, la madre per carità basta la madre che c'ha avuta, basta, basta, quindi non si riesce diciamo così a riconciliarsi con questo aspetto perché noi dobbiamo tenere presente, dobbiamo identificarle queste cose perché noi dobbiamo cercare di capire come tutto questo può distorcere i nostri rapporti con Dio e poi vedremo anche col prossimo. Allora, famiglia, primo ambito, secondo ambito, parrocchia, parrocchia fondamentalissimo, cioè noi stiamo dinanzi al fenomeno come dire perdurante ancora che è la grande come dire preoccupazione anche la grande fonte di sofferenza di parroci, di vescovi che è la fuga dei giovani i giovani fuggono ma non è una cosa cominciata da adesso no? ci sono certamente dei problemi oggettivi e che sono veramente più grandi di noi però dobbiamo anche ripensare che immagine di Dio abbiamo ricevuto in parrocchia mi ricordo come è stato il tempo del del catechismo le prime volte che andavo in chiesa le celebrazioni per esempio no? la missa i sacramenti non parliamo dei sacramenti qualcuno si ricorda la prima confessione o qualcuno si ricorda una confessione che potrebbe averla potrebbe averlo traumatizzato diciamo anche cioè una esperienza non buona vale che se questo c'è stato quando capitano queste cose il diavolo che è essere come dire sleale per antonomasia immediatamente arriva e la leva guarda qua hai fatto questa brutta esperienza in confessione non ci mettere più piedi in confessionale per carità guarda con questo abbiamo chiuso ok? con questo abbiamo chiuso oppure magari il contatto con qualche celebrazione oggi i documenti della chiesa anche i prenotando del nuovo messale molto belli tra l'altro quindi se qualche confratello è in ascolto lo ascolterà sicuramente l'ha già fatto ma è bene leggerli con molta attenzione no? parlano per esempio dell'arts celebrali dell'arte di celebrare cioè la liturgia è affidata alle nostre mani certamente ha una sua consistenza oggettiva e delle regole molto molto chiare anche se flessibili ma molto dipende dall'arts celebranti le le lebrerie che abbiamo ascoltato cioè che mi ricordo è importante farsi partecipi di queste nostre reazioni cioè la mia fede infantile la mia fede del catechismo la mia fede da bambino c'era non c'era era una cosa brutta era una cosa bella era una cosa noiosa sono stato in contatto con realtà belle con quelle realtà che comunque ti attraggono in qualche modo che ti suscitano quella nostalgia di Dio che tutti quanti ce l'abbiamo nel cuore soltanto che qualcuno deve toccarci la corda giusta oppure ho vissuto qualche esperienza molto negativa sotto questo punto di vista non parlo insomma delle cose assolutamente drammatiche inqualificabili che purtroppo anche se in forma meno virulenta di quello che trasmettono i media purtroppo sono accadute sono delle piaghe aperte insomma dentro la nostra cara e santa madre chiesa e vabbè quelli sono evidentemente casi catastrofici insomma se una persona gli capita che come che Papa incontra sempre le famiglie diciamo così di coloro che hanno avuto problemi grossi insomma da un punto di vista di ferite ricevute purtroppo ecco da membri diciamo così del clero insomma sacerdoti o religiosi no quelle sono delle cose micidiane insomma però senza arrivare a questi orribili estremi io ribadisco che sono d'accordissimo con un discorso che il Papa fece non mi ricordo in quale 21 dicembre prima di Natale incontra sempre i membri della cura romana sicuramente nuovo scorso Natale forse il precedente o il precedente ancora dove diceva perché qualcuno gli diceva ed è giusto questo qui santità sì certamente ci sono stati delegati a tanti casi brutti però è chiaro che c'è anche un'operazione mediatica perché in proporzione cioè di tutti quanti i casi di queste cose insomma esistenti nel mondo quelli addebitabili agli uomini di chiesa sono un piccola percentuale ed è vero questo qui però proprio subito ho detto per quanto mi riguarda la piccola percentuale non ci dovrebbe proprio esistere perché sono cose talmente inqualificabili che in un ministro del Signore la percentuale dovrebbe essere zero io sinceramente condivido nel senso che con San Filippo Nero dico sempre al Signore tienimi la mano sulla testa se no Leonardo si fa turco nel senso che noi purtroppo siamo dei poveri esseri umani e se il nostro Signore cedeva dalla mano dalla testa possiamo insomma diventare capaci di ogni cosa però veramente giungere a certi estremi insomma sono poco insomma operazioni diaboliche veramente queste qui no cadere in lacci insomma di questo genere vabbè e quindi che cosa ricordo per esempio te la ricordi la prima confessione te la ricordi la prima confessione ho vissuto questi eventi come ho vissuto nell'ambiente parrocchiale c'è stato un momento in cui hai lasciato la fede hai lasciato la chiesa sì e perché ce lo dobbiamo dire dice ma adesso che importa adesso io sono tornato dico importa anche se sei tornato importa adesso lo lo vedremo perché no e leggerò una regola di Sant'Ignazio noi dobbiamo averle chiare queste cose quindi com'è stato il nostro vissuto per quello che veicola Dio e il suo mondo è importantissimo perché poi noi dovremo prendere le distanze da tutti quanti gli eventuali messaggi distruttivi e negativi che ci sono venuti e che potrebbero non soltanto condizionare il nostro rapporto con Dio potrebbero creare veramente dei blocchi delle difficoltà non soltanto ad aderire a certe verità di fede ma anche a entrare in una relazione profonda cioè il senso di questo itinerario questo è un itinerario io sono un sacerdote insomma cioè la scoperta di tutte quante le ferite che abbiamo serve semplicemente a prepararci per andare poi dal medico il medico è Gesù non ci sono altri medici e ci sono poi delle modalità come dire per fare in modo che il medico celeste le ha già tutte e tante stabilite possa liberamente sfrigionare la sua potenza sanante su di noi e però cioè per fare questa operazione bisogna essere come dire ben attrezzati sia nella conoscenza delle piaghe sia anche nell'essersi fatta come dire un'idea non distruttiva del medico ma per capire il senso di questo lavoro diciamo così un po' forse doloroso di ritorno sul nostro passato mi servo di una regola di Sant'Ignazio di Loiola tratta dagli esercizi spirituali guardate che nei numeri avanzati quindi dal 300 in poi ci sono le cosiddette regole che mi dava e si chiamano generalmente regole per riconoscere gli spiriti sono di una sapienza assolutamente straordinaria e andrebbero conosciute e meditate da parte di molti perché se fossero conosciute meditate e messe in pratica ci risparmieremmo molte stupidaggini e molti guai che commettiamo allora la sesta regola del paragrafo 334 per chi avesse o comprasse insomma il testo del testo spirituale dell'antignazio dice queste parole quando il nemico della natura umana viene scoperto e riconosciuto per la sua coda serpentina e per il fine cattivo a cui spinge o ci ha spinto colui che è stato tentato farà bene a esaminare subito il corso dei pensieri buoni all'inizio da lui suggeriti e considerare come il demonio poco a poco abbia cercato di farlo discendere dalla sua vita e dalla gioia spirituale in cui si provava fino ad attirarlo al suo disegno perverso così tenendo conto di questa esperienza potrà guardarsi dai suoi soliti inganni c'è un proverbio che dice storia magistra vite se io riesco a focalizzare bene quello che ho vissuto e quello che è successo e le reazioni che ho avuto e se sono ancora più bravo anche le tappe che mi hanno portato ad una certa reazione ho delle marce in più cioè ho delle porte chiuse il diavolo non riuscirà più a entrare attraverso quei grimardelli d'accordo perché se io faccio un esempio se ho incontrato un ministro di dio non all'altezza della situazione e gli dice a causa di questo io non metto più piede in chiesa sicuramente ne incontrerai qualcun altro sicuro ma uno non mette piede in chiesa a causa del ministro questo per capire quello che voglio dire uno mette piede in chiesa perché nella chiesa a prescindere dal ministro c'è qualcun altro che passa anche attraverso un ministro che non sia all'altezza della situazione non so se riesco a farmi comprendere no? bene step successivo vediamo un pochino le idee di dio che possono esserci in qualche modo stati trasmesse che ci condizionano e poi cercheremo anche di chiudere vedendo chi è il dio della liberazione quindi chi è dio secondo quello che lui ci ha fatto conoscere attraverso l'antico e il nuovo testamento allora le classiche immagini estreme cominciamo da quelle più diffuse che sono l'estrema destra e sinistra se uno voglia allora immagino di un dio punitore vendicativo quindi un dio che è custode supremo di un ordine chi trasgredisce quest'ordine riceve sanzioni sanzioni che possono essere immediate oppure differite ma in ogni caso l'immagine preponderante è appunto il dio giudice e vendicatore tenete sempre presente una cosa quando ci sono queste figure come dire caricate ecco perché ho detto c'è sempre una parte di vero ma quella parte di vero quindi una piccola parte di vero viene assolutizzata diventa l'unica vera questa immagine di dio quindi l'immagine di dio severissimo immagine di dio vendicativo o comunque punitore giustiziere è diffusa è stata diffusa anche in ambito cristiano a partire per esempio chi ha studiato lo sa dalla variante del protestantesimo di Giovanni Calvino da Giovanni Calvino hanno preso vita poi tutta una serie di ulteriori ramificazioni dei fratelli separati che ne condividono però questa ispirazione come dire terrificante nella mia esperienza pastorale non vi dico a quale comunità appartenesse perché salviamo la carità io ho avuto modo di conoscere perché volevamo di vicinarsi alla chiesa cattolica persone cristiane vissute in questi contesti cioè erano terrorizzate da dio terrorizzate erano vissute dentro un clima cioè come dire di terrorismo perpetuo se ti muovi succede il finimondo allora diciamo questa immagine può aver caratterizzato certamente un po' più che altro tempi obsoleti oggi come dire io la vedo molto molto in via di estinzione perché oggi pare che sia invece più diffusa l'immagine completamente speculare opposta dal dio giustiziere che non te ne fa passa una senza al dio si chiama così diciamo al dio bonaccione al dio pasoccone al dio che come dicono a Roma alla fine va sempre a finire a taraduce si ti dice questo andrebbe bene questo andrebbe bene però tutto sommato non fa niente qualunque cosa succede non ti preoccupare le cose andranno comunque bene quindi dietro queste immagini ci sono le idee per esempio che alla morte vanno tutti quanti in paradiso il funerario lo facciamo tanto per farlo ma tanto quello sta già in paradiso e quindi conseguentemente servirà qualcosa dire alla messa vendepunto ma no quello sta già in paradiso d'accordo cioè ci sono queste attestazioni ecco io in passato ho polimizzato insomma non poco dico c'è quest'altra immagine quindi sembra questa un'immagine bella di Dio ma se Dio fosse questo non sarebbe quello che è vi racconto un'esperienza che io ho sentito da un uomo di chiesa di dirango elevato che raccontava un'esperienza pastorale che aveva fatto c'era praticamente una ragazzina che una domenica mattina all'alba suona la porta della canonica andando da questo sacerdote dicendo Don Francesco Don Francesco Don Francesco apri 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 scusa ti disturbo ma questa notte ho scoperto una cosa bruttissima e mi figlia mia quello stava ancora a letto insomma gli aspettavo una domenica di quelle come come toccano a noi e apre la porta dice che è successo questa notte ho scoperto che mio padre non mi vuole bene mamma mia non ti vuole bene ma diamone un pochettino insomma che cosa era successo era successo questo che il padre gli aveva dato insieme alla madre un orario di rientro a casa questa persona non è che aveva sgarrato l'orario aveva sgarrato l'orario clamorosamente supponiamo che gli avesse detto torna entro mezzanotte che era tornata alle tre e mezza quindi era entrata dentro casa come un ninja sperando di non essere sentita perché altrimenti arriverà una scarica di mazzate perché va basta la nero che succede lei entra quatta quatta a un certo punto era quasi arrivata a dama sente dei passi dice chi è adesso era il padre allora lei si prepara a ricevere la manzina e forse anche altro il padre guarda l'orologio dice non ti sembra un po' tardi vabbè vado vado a dormire fine la ragazzina da questa reazione del padre interiorizza messaggio di me a mio padre non mi importa nulla mio padre non mi vuole bene ci va come anziché menatte anziché punirti non trovato niente ha manifestato semplicemente un disinteresse gli sarebbe voluto succedere chissà che cosa ma tanto qualunque cosa accade va tutto bene non ti vuole bene una persona non percepisci l'amore allora l'immagine del Dio buonacione è già molto molto diffusa e non è come qualcuno pensa è una buona decodificazione quindi una buona trasmissione del concetto che Dio è amore non lo è è un tradimento di questo concetto perché l'amore richiede cura richiede interesse richiede attività paziente educativa correttiva certamente non punitrice o sterminatrice ma la correzione si che mi ha messo tutti i giorni ieri o due giorni fa l'antico letterale ebrei dire è per la vostra correzione che voi soffrite Dio vi tratta come figli e quale figlio non è corretto dal padre punto interrogativo quindi l'immagine del Dio giustiziere l'immagine del Dio buonacione poi ci sta l'immagine del Dio disinteressato cioè se ne sta in paradiso d'accordo filosoficamente questa immagine di Dio era insegnata dai cosiddetti teisti filosofi teisti che significa questo qui l'immagine era quella del Dio orologiaio cioè Dio ha fatto come dire ha creato tutto anche te ma come quando si costruisce un orologio una volta che l'orologio è finito l'orologio cammina da solo non c'è bisogno che l'orologio sta sempre a controllare che cammini quindi un Dio ci sta certamente c'è ma fondamentalmente non si prende cura di te sta lì a fare non si sa bene che cosa d'accordo quindi c'è questa idea come dire vaga quindi Dio non ha cura di me è diversa dall'immagine di Dio quindi è un qualcuno che non gli interessa di te non gli interessi tu non si cura non è amorevole in questo senso questa è un'altra immagine possibile di nostro Signore oppure l'immagine del Dio come dire che dovrebbe fare mi si perdoni il termine però devo far capire alcune cose mi perdoni anche l'altissimo no questa è un'altra cosa oggi molto diffusa da un lato c'è il Dio come dire che si disinteressa dall'altro c'è il Dio che è il manovratore di marionette quando la gente dice per farvi capire ah è successa questa disgrazia è morta e perché Dio non l'ha impedita allora l'immagine c'è 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 l'immagine estrema cioè di Dio che non se ne importa assolutamente nulla e poi c'è l'immagine di un Dio che secondo questa immagine sarebbe veramente come il manovratore delle marionette quindi non esistono come dire dinamiche attribuibili alle cause seconde alla libertà che certamente il Signore controlla nel senso che tutto è sotto quanto il suo controllo ma non è manovrato come una marionetta d'accordo per cui se faccio un esempio un povero giovanotto come dire che cosa fa una sera no allora ruba la macchina al padre la macchina che va a 300 all'ora va con gli amici in discoteca X in discoteca fa un cocktail di alcol droghe sballi di vario genere valla come un matto esce alle 6 e si mette a guidare come un pazzo contro umano e va contro un palo il giorno dopo dice e Dio dov'era ma che discorso è questo qui ma come Dio dov'era allora dire Dio dov'era vorrebbe dire che dinanzi alla libertà di quella creatura Dio la deve completamente fermare come un manopratore come un burattinaio che lo prende e gli impedisce di fare quello che la sua libera volontà fa questa non è l'immagine corretta di Dio ma questa è diffusissima anche questa attenzione attenzione che non ce l'abbiamo anche noi dentro la testa quando cominciamo a fare perché 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 o accusare Dio di questo di questo di questo di questo di questo di questo il Dio burattinaio attenzione altra immagine di Dio molto diffusa e a volte ricercata anche nei sacerdoti state attenti io la chiamo si chiamano l'immagine del Dio stregone mi perdoni d'altissimo perdonatemi anche voi adesso capirete che significa chi è lo stregone o il mago lo stregone è una persona che tu gli porti un problema e schiocca le dita ti ha risolto il problema subito c'è la soluzione istantanea pronuncia qualche formula magica e prende qualche bacchetta magica ti tocca e puff e finisce tutto allora esempi le persone si avvicinano al Signore dice io gli ho chiesto risolvi questa situazione risolvi quest'altra la vita non soltanto come si è risolta ma si è complicato ulteriormente oppure mi va tutto storto la frase classica ripeto io queste cose le ho imparate anche dall'esperienza pastorale qui c'è bisogno di qualche benedizione qui c'è sicuramente qualche cosa chi lo sa che mi hanno fatto attenzione queste cose succedono possono succederne parleremo forse a suo tempo ma allora che cosa c'è qui dietro allora Dio dovrebbe essere secondo questa immagine sempre pronto che se io ho un problema glielo presento e lui me lo risolve senza alcun tipo di cooperazione e di collaborazione da parte mia e questa modalità ordinariamente non viene proiettata direttamente su Dio ma su qualcuno dei suoi ministri d'accordo io con tutto quanto il rispetto per le situazioni no ma quando sento parlare di ho conosciuto il prete carismatico X o Y o Z quando sento queste cose oppure un'eccessiva come dire attenzione verso il sensazionale verso il miracolistico mi vengono subito le mi si aderizzano subito le antenne allora attenzione Dio ha creato i sacramenti Dio ha creato i sacramentari che vedremo tutte quante queste cose che sono degli strumenti efficaci che trasmettono benessere trasmettono benefici che trasmettono liberazioni che trasmettono guarigioni che trasmettono grazie in abbondanza ma attenzione non c'è mai una operatività di queste cose che prescinda da una collaborazione del diretto interessato cioè da un suo cammino cioè non è che io vado cioè vi dico la parroco no io sono per tanti anni continuo a farlo tuttora le benedizioni delle delle case no ti può succedere che tu qualche qualcuno oggi c'è molta gente che non ti fa entrare d'accordo perché proprio o per disinteresse o perché non ci crede o perché teme che gli chiedi soldi cioè anche questo cioè nelle 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 situazioni no ma qualcuno ti fa entrare perché dice porta bene dice qua c'è tutto storto quindi l'immagine entra il sacerdote con l'acqua santa quindi mette un pochino d'acqua santa dentro casa e le cose che andavano male cominciano ad andare bene queste diciamo così forme infantili ma molto diffuse purtroppo di religiosità hanno causato poi delle reazioni opposte nel senso che è chiaro che se una persona intelligente un ministro il dio vede queste cose qui e le devi combattere può assumere degli atteggiamenti troppo in senso contrario nel senso che elimina tutte quante le forme e i modi che possano ingenerare questa mentalità comprese quelle buone cioè attenzione che quando ci sono delle problematiche bisogna sempre avere una visione complessa cioè quando noi vediamo un atteggiamento una reazione dobbiamo sempre chiedere perché questa persona sta facendo così perché c'è un perché allora questa è un'immagine falsa il dio non è così ancora altra immagine il dio notaio d'accordo? il dio notaio quindi il dio che sta controllando per filo e per segno tutto quello che fai ma lo sta controllando ripeto il dio ci sta controllando cioè il dio ci si guarda in continuazione il dio è sempre con noi ma che tipo di percezione ho di questa onniscienza onnipresenza di dio quindi è una presenza amica amorevole che cerca di guidarmi di incanalarmi verso il bene o che sta a controllarmi d'accordo? a controllarmi perché mi deve controllare no? è consente controllato è brutta questa 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 immagine perché chi ce l'ha anche nei confronti delle cose belle delle cose di fede eccetera eccetera non le vive bene ma le vive con come dire con la con l'intenzione di timbrare il cartellino ho fatto quello che dico le persone che vanno ammessa per abitudine d'accordo? o per tradizione cioè ho fatto il mio dovere ho ho adempiuto il progetto pasquale e ho fatto quello che dovevo fare e ho fatto la confessione di pasqua quindi ho adempiuto i 5 progetti generali della chiesa li vivo tutti quanti però poi non mi chiedere nient'altro allora è un'idea molto limitata e limitante di Dio perché Dio non è che non sta a fare il nostro controllore cioè tutto quello che Dio vuole da noi e qualche quello che ci chiede è per il nostro bene non è un controllore allora queste sono soltanto alcune delle immagini falsate di Dio ecco cosa ci dice la rivelazione la rivelazione ci dice una cosa molto semplice San Giovanni è dato la definizione corretta ci dice che Dio è amore quindi tutto quello che Dio è tutto quello che Dio fa e tutto quello che Dio permette è sempre dovunque e comunque mosso dal suo amore d'accordo? io ci sono perché? perché io sono un atto del suo amore la creazione di un'anima è un traboccare fuori di sé di un atto creativo e amorevole di Dio tu se tu hai questa immagine di Dio il fatto che tu ci sia è la prova solo l'esserci è la prova inconfutabile del tuo valore unico davanti agli occhi del Signore della tua come dire del tuo valore intrinseco della tua bellezza intrinseca dici ma come fai a dire così Leonardo io sono un mostro cioè io non sono quello cioè non mi sento così allora se tu interiorizzi questa idea di Dio ed è questo il senso di quello che stiamo facendo noi vedremo in questo itinerario che la stragrande maggioranza degli esseri umani vive in una condizione in una condizione che non è la sua gli psicologi lo chiamano il falso se d'accordo ma tutti quanti noi stiamo nella menzogna stiamo tu io in sé sei una cosa meravigliosa bellissima tutto quello che gira intorno a te la tua famiglia così come è stata il tuo ambiente di lavoro così come è stato la tua scuola comprese le esperienze negative tutto quello che ti si muove intorno è sempre dovunque un atto d'amore una volta scorsa c'era Don Fabio Rosini nel suo libro che c'era la volta scorsa dice è un atto d'amore e se vado a finire in ospedale in quel libro si dice se vai a finire in ospedale è un atto d'amore e chi parla caro Don Fabio povero Don Fabio parla per esperienza personale perché Don Fabio ci è andato a finire in ospedale non ne fa un mistero lo racconta continuamente a tutti perde problemi molto seri molto gravi interiorizzare bene questo aspetto è decisivo è decisivo allora Dio non è un giustiziere ma certamente Dio è giusto ma la sua giustizia deve essere filtrata letta attraverso l'orizzonte dell'amore cioè anche la giustizia di Dio è un atto di amore Dio non è un buonaccione ma è misericordioso ma la vera misericordia è una manifestazione dell'amore di Dio Dio ha creato tutte le cose ma non le ha semplicemente create questo è il Dio che si disinteressa ma ne ha cura costante perché non c'è soltanto la creazione ma c'è anche la provvidenza in Dio Dio non è uno stregone quindi non ti risolve i problemi ma ti dà gli strumenti e i mezzi efficaci per risolverli che sono i sacramentali e i sacramenti capite? cioè tutte quante queste visioni false hanno qualcosa di vero che le fa stare in piedi ma lo stravolgono con tutte le desie lo assolutizzano e lo unilateralizzano l'unica cosa da cui ogni immagine di Dio deve essere come dire abbracciata dell'amore perché la sua essenza è questo quando San Giovanni dice Dio è amore Deus carita sest ci è scritto una lettera memorabile bellissima Papa Benedetto XVI a suo tempo sta dando una definizione sta dando una definizione Dio non è un burattinaio attenzione governa la storia ma nel rispetto della libertà delle persone perché il burattinaio è uno che ti fa violenza è uno che non non ti ama perché non ti rispetta capite? quindi riprovate adesso adesso non lo faccio io perché il tempo è quasi finito riprendiamo tutte quante le immagini false di Dio e trasfiguriamole e correggiamole alla luce dell'unica immagine corretta di Dio che è amore e perché ciascuna di queste unilateralizzazioni estreme e folli contiene qualcosa la giustizia diventa giustiziere la misericordia diventa bonaccione il fatto che ha creato diventa creare si fa gli affari suoi il fatto che esiste la provvidenza no è un burattinaio capiamo il fatto che Dio comunque dà delle grazie dà degli strumenti di grazie diventa uno stregone ecco o è completamente come dire il controllore cioè Dio è vero che è tu che è presente tutte quante le cose cioè Dio ma non è un controllore Dio segue ogni tuo passo perché li segue con amore segue con amore il suo sentiero dicono i salmi d'accordo se cadi non rimani a terra perché il Signore ti tiene per mano cioè la presenza di Dio cioè che noi dobbiamo interiorizzarla cioè stare sotto i suoi occhi quello che i santi quella famosa espressione Dio ti vede Dio ti vede non è oh mamma mia ma vede e mochi lo so che sto ma immagini che stai dicendo una persona che è innamorata di te ti vuole tantissimo bene e quindi non ti perde mai d'occhio per aiutarti in tutte quante i tuoi passi per compiacersi di te per farti contento hai sempre la sua mano a fianco alla tua perché possa essere presa in questo senso allora mi fermo perché siamo arrivati spero di aver trasmesso noi dobbiamo decodificare compiti a casa uno quali sono le immagini di Dio che hanno caratterizzato la mia esistenza dittele d'accordo te le devi dire due dove le hai immagazzinate queste eventuali immagini false di Dio in famiglia in parrocchia in una confessione in un ambiente non lo so cerca di focalizzarle perché poi da queste cose bisogna il rapporto con Dio è assolutamente fondamentale se una persona non ha un buon rapporto con Dio la cosiddetta preghiera profonda non la vivrà mai ecco quindi ci sentiamo la prossima volta spero di essere riusciti a trasmettere quello che desideravo l'argomento era un pochino ostico però a mio avviso molto molto importante sia sempre tutto gloria di Dio Dio vi benedica e la Madonna vi protegga a non la vivrà una l'argomento a per l'argomento Grazie a tutti